Uffa, questa mattina sono uscita per portare i bambini a scuola come al solito, ma la scuola era chiusa e nessuno mi ha avvisato. Da oggi è possibile essere informati telefonicamente su chiusura delle strade, scuole, interruzioni di servizi, allerte meteo e molto altro. Iscriversi è facile, basta andare sul sito dell'Unione Comuni Garfagnana, lasciate il numero telefonico dove volete essere avvertiti. Mi sono iscritta anch'io all'Allerte System e devo dire che è davvero utile. È tutto completamente gratuito, fatelo subito!